Il Taranto è la ricerca della prima punta, un tormentone estivo che sembra giunto al capolinea con i dirigenti ionici che avrebbero risolto le problematiche burocratiche relative all'argentino Dennis Stracualursi che secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione potrebbe giungere in Italia. Già dalla prossima settimana l'eventuale prestigioso ingaggio dell'ex calciatore di San Lorenzo e Everton non precluderebbe l'arrivo di un altro attaccante di spessore come il brasiliano Anderson Miguel da Silva, detto Nenè, ex punta di Cagliari, Bari e Spezia. Non solo attaccanti stranieri sul taccuino del DS Rosso Blu Francesco Montervino che nei giorni scorsi avrebbe effettuato un ultimo estremo tentativo per il bomber Domenico Santoro. L'ex Gravina però è destinato ad approdare in Serie C attraverso un club di serie cadetta. Tante le squadre interessate a Santoro tra cui Arezzo, Potenza, Lucchese e Casertana. Sullo sfondo del mercato ionico ci sarebbe anche la flebile speranza di rivedere in rosso-blu il bomber Giuseppe Genchi. L'ipotesi non sarebbe stata del tutto accantonata dalla dirigenza tarantina. Intanto gli ionici riprenderanno la preparazione in sede nella giornata di lunedì. Si lavora per programmare amichevoli utili al tecnico La Terza per testare la squadra tra gli allenamenti congiunti. Potrebbe esserci domenica 13 settembre quello contro la formazione del Ginosa, militante nel campionato di eccellenza pugliese.